Non so cos'altro dire, non so cosa dire! Ciao, benvenuti alla Città di Carta. La Città di Carta è il nostro festival che organizziamo in collaborazione con il Laboratorio per Inciso, festival dedicato alla carta in tutte le sue svariate sfaccettature, quindi c'è una bellissima mostra a mercato con diversi artisti, illustratori, stampatori, varie cose. Ci sono dei workshop, delle dimostrazioni, poi delle talk, delle esposizioni, insomma ci sono un sacco di cose tutte legate al meraviglioso mondo della canta. Siamo al Chiostro di Santa Maria di Castello a Genova, nel centro storico, quindi anche in una location che è molto affascinante, ci piace moltissimo. Non so cos'altro dire! È da dire che questo festival, la Città di Carta, è a settembre, però durante l'anno le varie associazioni conducono delle attività, per cui chi volesse seguire dei workshop o attività diversi inerenti alla carta può seguire le diverse associazioni. Ciao, siamo alla Stamperia Il Cogliate Rocco e siamo qui alla Città di Carta. Ci stiamo divertendo tantissimo e ci vediamo anche l'anno prossimo. Il festival dura tre giorni, da venerdì a domenica, siamo alla seconda edizione, speriamo ovviamente che ce ne sia una terza, una quarta, tantissime altre. Ciao da Jacopo Fatomale. Ciao, io sono Isabella Bersellini. Grazie alla Città di Carta e ci vediamo l'anno prossimo. Ciao! 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 Ciao!